Altro gol spettacolare in questa semifinale tra Genoa e Parma, vantaggio al quarta tresimo, che festa, che festa da parte di tutti i giocatori del Genoa, anche di quelli di questi, che arrivano dalla panchina, vanno in fondo a festeggiare, vanno tutti insieme, perché questo potrebbe essere il gol che dà la finalissima alla squadra rosso-blu, anche se dall'altra parte si dice mancano almeno altri sei minuti perché i minuti di recupero saranno quattro, sono aumentati a quattro da tutte. Da vedere e rivedere, come ci mostra con la garanzia del nostro replay, questa condizionizza al volo direttamente dalla calcio.